Grazie a questi meravigliosi ragazzi che dal primo momento hanno capito questa società, i loro obiettivi, li hanno saputi cogliere in pieno e il grazie va prima a loro innanzitutto e poi chiaramente a tutti quelli che hanno ruotato attorno a questa meravigliosa avventura di quest'anno. Chiaramente è inutile fare l'elenco delle persone che devo ringraziare perché sono tante. Mi piace solo... anzi voglio fare un'altra cosa, dedico questa vittoria a chi ha scommesso contro di noi, a chi ha scommesso che questa società, questa squadra non avrebbe raggiunto un traguardo del genere e soprattutto dedico a quelli che hanno promesso di aiutare e sostenere questa società, questa squadra e non l'hanno fatto. Io dico loro soltanto una cosa, un uomo si vede da quanto vale dalla parola che ha. A questo punto a loro io posso soltanto dire di godersi insieme a noi questa meravigliosa avventura, esperienza, vittoria, vinta anche senza di loro. Quindi dedico a loro questa vittoria. Presidente, domenica prossima Vallo e il Cilento tutto, vivrà una giornata secondo me indimenticabile, arriva il Città di Messina, la Gelbison giocherà i playoff in casa, avrà due risultati su tre per passare il turno. Un'altra grande giornata di sport. Guarda non ci chiederai Lorenzo, quando andammo a Messina contro il Città di Messina a giocare ci vennero a salutare e congredorarsi con la nostra squadra, ma questo ovunque siamo andati abbiamo ricevuto i complimenti per questa squadra e per anche per noi società. E nel farci i complimenti, a fine partita dopo aver perso 3 a 0 a Città di Messina, il loro presidenza ci disse ci vedremo ai playoff. La mia paura maggiore era quella di andare a giocare lì. Io invece sono straordinariamente felice di averli giocare qui a Vallo, augurandomi e augurando a Vallo, perché ce n'è bisogno, di riempire queste tribune, perché oggi questi ragazzi meritavano qualcosa di più. Sono un po' scontento sotto questo aspetto, però se ne assumono le conseguenze tutti ciò che non hanno partecipato a questa avventura meravigliosa. Si sono persi qualcosa di straordinario, si sono persi. Poiché mi ritengo di essere lo storico della Gelbison? È veramente un risultato, al di là di ogni previsione, è veramente, come dice lei, un risultato storico. Mai si poteva pensare di poter raggiungere questo traguardo. Si è raggiunto con una società sana, pulita, onesta e con uno staff di dirigenti e di vari tipi di collaborazioni che hanno creato un clima tale da poter ottenere questo meraviglioso risultato. Mi auguro che domenica tutti vengano al campo per questa partita che è il top dei top che noi ci potevamo attendere. Questo risultato io lo dedico a tutti gli sportivi vallesi di sempre, dal 1956 ad oggi, a tutti i presidenti, a tutti i calciatori e a tutti i tifosi di Vallo. Recuperiamo la nostra volontà di credere in questa società e tutti uniti si potrà fare anche per il prossimo campionato un'ottima performance. Grazie a tutti.